Benvenuti nella finestra di aria pulita dedicata all'economia, è tornato a trovarci in via eccezionale di venerdì il professor Marco Nicolai, buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il nostro ormai economista di fiducia e di riferimento senza quale veramente ci sentiamo persi, soprattutto di fronte alle tante notizie che leggiamo. Io in modo particolare mi riferisco oggi ai debiti di Stato, io ho evocato il professor Nicolai tutta la settimana, ricordando quando più volte in trasmissione il professore aveva denunciato proprio il ritardo dei pagamenti dello Stato nei confronti delle imprese e mi ricordo che tempo addietro in una delle sue lezioni televisive ci aveva detto come se si riuscissimo, se si riuscisse ad avere queste risorse davvero potremmo avere a che fare quasi con una finanziaria, professore. E oggi ci troviamo proprio a parlare di questi debiti di Stato che dovrebbero essere sbloccati a ore. Il fenomeno per rispondere alla comparazione con una manovra finanziaria è un fenomeno dalle dimensioni assolutamente importanti, in realtà sono cifre ballerine perché l'ultima è 100 miliardi di euro dell'ABI, 90 miliardi di euro l'ultimo dato ufficiale al 31 dicembre del 2011 della Banca d'Italia, il MEF un anno prima stimava 71 miliardi, sostanzialmente si va in una dimensione che è molto prossima ai 100 miliardi. È stupefacente che uno Stato non sape dare a queste cifre, a queste dimensioni un perimetro più definito e più oggettivo. Vi basti pensare che per quanto riguarda la sanità che vale 40 miliardi di questi 90 per le stime Banca d'Italia, soltanto per la sanità quando si è trattato di fare i bilanci di alcune regioni, cito il caso della Calabria, per ricostruire la situazione debitoria dell'amministrazione della Calabria hanno dovuto ricorrere alle testimonianze orali perché le contabilità erano inaffidabili, questo dice dello Stato in cui siamo. Comunque la dimensione è sicuramente importante e peraltro ci vede fanalino di coda in Europa, persino dopo la Grecia, persino dopo il Portogallo, persino dopo la Spagna, perché semplicemente lo Stato ha pensato che facendo debiti con i fornitori, quindi con le imprese anziché con le banche, gli costasse di meno da una parte perché non paga interessi passivi e dall'altra parte perché facendo debiti con i fornitori ai fini di Bruxelles non risultava come debito finanziario e quindi in qualche modo aveva una contabilità più brillante, questa è la situazione. Questo aspetto di insolvenza perché chiamarla di ritardo in pagamenti quando hai situazioni, ti do una cifra per quanto riguarda la sanità, abbiamo la Campania, l'AS di Napoli paga a 1621 giorni, voi immaginatevi un'impresa che deve stare fuori con i pagamenti per 1621 giorni, cioè stiamo parlando di anni e anni e è una situazione non solo insostenibile per le imprese da un punto di vista finanziario, si parla di 3-4 miliardi soltanto per giorni finanziari, ma insostenibile perché non hanno la liquidità per pagare i loro dipendenti, per pagare le loro forniture. Qualcuno ha provato anche a fare delle stime di che cosa causa questo non pagamento, ce ne sono di preoccupanti, a parte le contrazioni degli investimenti che sono stimate tra il 2007 e il 2012 nell'ordine solo per la parte del sistema produttivo privato e escluso il mondo finanziario e servizi, 6,7 miliardi meno di investimenti. Si parla, erano 43 miliardi nel 2007, pre fallimento Lehman e oggi sono a 36 miliardi. C'è stata una contrazione degli investimenti del settore pubblico nell'ordine del 22-23%, ma la cosa più preoccupante è che si parla di fallimenti di impresa. Nei fallimenti tra il 2008 e il 2012 ce ne sono stati 52 mila con un incremento del 72% in quell'arco temporale, ebbene 15 mila di questi 52 mila le stime le imputano al ritardo di pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Quindi sicuramente il fenomeno è drammatico negli effetti e improprio nei comportamenti da parte della pubblica amministrazione. Se vogliamo, qualcuno ha detto, ovviamente se ne parla, ho qua una pila di giornali di oggi in cui si aspettava il decreto, poi è stato ritirato, si aspetta che venga fatto domenica, forse lunedì, di fatto che ipotizza di sbloccare 40 miliardi di pagamenti, onestamente 40 miliardi in due anni. Però professore c'è una forte preoccupazione tra i cittadini, che adesso sentiamo, vi ricordo il numero per chiamarci, è lo 02 45 70 23 12, che è quella che per sbloccare questi soldi si possa mettere mano in qualsiasi modo ancora nelle tasche dei cittadini, penso ad esempio a una grave ulteriore sull'IRPEF. Il governo ieri ha smentito questo, però resta alta la preoccupazione, perché se non ci sono i soldi, dove li vai a trovare per darle le imprese? Sicuramente la coperta è corta e il tentativo di far rientrare dalla finestra quello che si è scacciato dalla porta è alto, per cui io nell'ultima bozza che ho visto onestamente del decreto, la parte relativa all'anticipo dell'addizionale IRPEF, quindi un aumento della tassazione, non esisteva, non c'era. Ci auguriamo sicuramente che come del resto il ministro ha promesso il decreto sia epurato da qualsiasi aggravio fiscale, che farebbe ricadere sulla collettività già pressata da un'intensità fiscale unica in Europa e tra le prime nel mondo. Ma l'altro aspetto che è importante è che non c'è discontinuità neanche in questo momento nella incapacità di proporre delle soluzioni tecniche adeguate. Io mi sono ripercorso... Professore, la interrompo solo un secondo così poi focalizziamo questo suo nuovo intervento dopo aver sentito la telefonata di... Pronto? Pronto Simona? Sì! Buongiorno a lei e al dottore. Buongiorno. Vorrei per cortesia un'informazione, visto che abbiamo paura per questi pochi soldi che abbiamo, bisogna... Sì, abbassa bene il volume del televisore. Bisogna... Tenerle o portarle via dalla banca? Guarda, questa è una domanda che mi fanno sempre quando mi incontro... Bisogna portarle via oppure bisogna lasciarle lì? Ti faccio rispondere dal professor Nicolai, perché mi incontrano tanti cittadini per strada e mi dicono quando vedi Nicolai devi chiedere cosa devo fare dei miei soldi. No, io sono contrario agli allarmismi. Sicuramente la situazione è molto, molto delicata. Il fatto stesso che siamo al centro continuamente anche delle interlocuzioni dell'Unione Europea lo dimostra. Però io sono contrario agli allarmismi. Tenga conto che se dovesse esserci situazioni, quale quelle a cui lei fa riferimento, cioè ipotesi di insolvenza, sicuramente queste avrebbero una ricaduta tale su tutto il sistema che non salverebbe in ogni caso le proprie risorse finanziarie. Quindi può lasciarle in banca tranquillamente? No. L'unica opzione che ha è quella di fare una valutazione acculata sugli investimenti, ma ho già fatto riferimento in altre trasmissioni che possono essere alternativi rispetto a quella del deposito bancario, ma io non sollecito allarmismi in questo senso. Siamo quasi in chiusura di trasmissione. Noi rischiamo di, poi naturalmente quando ritroviamo il professor Nicolai continuiamo su questo tipo di approfondimento, rischiamo di finire come Cipro? Noi rischiamo di pagare un conto salato. Questo lo dico da tanto tempo. Ho sempre detto che l'Italia è un paese ricco, un paese che ha una struttura produttiva unica in Europa insieme alla Germania, quindi ha dei fondamentali importanti. però rischiamo, proprio per questa situazione, di essere depauperati. Non avere fatto fronte al debito elevato che abbiamo, e ancora oggi che si parli di aumento fiscale per pagare le imprese, quando non si è in modo sollecito affrontato il tema per esempio delle dismissioni immobiliari, delle dismissioni e delle privatizzazioni delle società pubbliche, sembra una irresponsabilità. Quindi il rischio reale è che ci sia un progressivo impoverimento con accelerazioni. Ricordiamo che le ricette, se non sono affrontate in modo tempestivo, a volte non solo non riescono a recuperare la salute iniziale, ma non riescono neanche a salvare il malato. Io ringrazio come sempre il professor Nicolai per essere stato con noi, fate un buonissimo fine settimana, grazie ancora e ci rivediamo con Aeropulita alle ore 12. Al prossimo episodio